Di nuovo in studio, ricordiamo che ci stanno seguendo anche sulle frequenze 101 e 200 di Radio Stella Città, quindi un saluto anche ai nostri ascoltatori. Qui in studio con noi il giornalista Pino Maggi, stavamo un po' allegramente analizzando i vari candidati a sindaco. Abbiamo parlato di Moscherini, della Coalizione delle Largentese, Aldo De Marco, Mirko Mecozzi, parte dell'Udc, Cappellani, che ha portato dietro a sé l'altro consigliere comunale dell'Udc, Mirko Cerroni. E poi attenzione, è Mirko Cerroni ma c'è anche Chiara Guidoni, ma oltre a Chiara Guidoni è Gianfranco Iacomelli. E questi erano tutti i personaggi ed esponenti, a parte Mirko Mecozzi che è uno dell'ultima leve, ma Chiara Guidoni e Gianfranco Iacomelli, ricordiamoci un po' l'evolversi della loro maturazione politica. Gianfranco Iacomelli viene dalla sinistra, viene dal centro-sinistra, Chiara Guidoni viene dal centro-destra. Quindi abbiamo una sovrapposizione anche in questo caso. Quindi abbiamo una sovrapposizione. Chiara Guidoni, non dimentichiamoci, che fu chiamata per diventare assessore dell'ultima ora. Ha rifiutato, non ne ha voluto sapere, anzi addirittura ha detto che la notizia le è arrivata addirittura in maniera inaspettata perché lei non sapeva niente. Quando invece poi il sindaco Moscherini ha detto che era già stata consultata. Quindi ecco, ci sono tutte queste cose che sono sempre più una chiara dimostrazione del grosso scollamento che c'è, ma non soltanto nel centro-destra. Noi parliamo, vediamo, lo scollamento sta anche nel centro-sinistra e gli otto candidati a sindaco sono la diretta conseguenza di questa situazione di scollamento generale. E questo deve far molto pensare, molto riflettere, perché Civitavecchia, Sonia, vedi io con te parlo e ti do del tuo, anzi gradirei che tu lo dessi anche a me, anche perché mi sento più a mio agio. Ma quello che ti stavo dicendo è questo, Civitavecchia ha bisogno soltanto di una cosa, Civitavecchia ha bisogno di persone responsabili, di persone anche semplici, soprattutto. Di persone che sappiano operare alla luce del sole, senza sotterfuggi, di gente che non si vesta da pifferaio magico. Questo è il discorso, Civitavecchia vuole questo, non vuole tanto, tantissimo, non vuole l'irrealizzabile, vuole un qualcosa che faccia diventare questa città più vivibile, la faccia diventare pienamente soddisfatta, diciamo, di quelle che sono le sue potenzialità e basta. Noi abbiamo problemi di occupazione, io lo vedo nei programmi accennati dai vari candidati, il problema dell'occupazione torna costantemente su tutti, come torna costantemente che cosa? Il rapporto tra il porto e la città, una migliore utilizzazione, anche se il termine può essere un po' brutto, ma di che cosa? Delle navi da crociera, dei croceristi, della possibilità di dare a questo settore turistico la forma e la sostanza di fonte di lavoro anche per i nostri giovani. Io dico, sono tutti argomenti che rivengono fuori ogni volta che c'è la campagna elettorale, no? E allora sono i ritornelli che tornano, eccetera. Passato il periodo della campagna elettorale, smorzatasi l'adrenalina da gara e da competizione, poi piano piano tutto ritorna nella bella addormentata nel bosco, no? Ma forse questo non potrebbe essere dettato che una volta terminata la campagna elettorale, chiunque sia il sindaco vincitore, quindi chi ne esca il vincitore, poi trovandosi a conti fatti davanti a tutto quello che può essere il sistema burocratico, magari si rende conto che quello che era stato proposto può essere realizzato in parto, addirittura non essere realizzato. Certo, questo può succedere. E allora che cosa si fa? Non si fanno i megaprogetti, no? Quando dice ma faremo questo, faremo quello, no. Si promette e si agisce per ottenere risultati positivi nell'essenziale. E si agisce e si opera per proporre progetti che a lungo termine possono essere poi realizzabili, ma non da te attuale amministrazione, perché sarebbe impossibile che tu le realizzassi, ma perché tu ponessi le basi perché queste cose si possano realizzare in seguito e chi verrà dopo di te troverrà già il terreno pronto e fertile perché questa cosa possa essere portata a termine. Questa è buona amministrazione, ritengo, cioè io non voglio essere quello che vuole e pretende di insegnare ai politici di oggi come si amministra una città, però, ripeto, considerata l'età e considerati i tanti anni trascorsi a contatto con la pubblica amministrazione, ritengo che qualche piccolo consiglio lo possa dare, senza essere né preso per il cattivo mentore, diciamo. Poi qualche consiglio, se positivo, fra l'altro, far sempre più certo. Certo, per carità. Però torniamo un attimo ai nostri candidati a sindaco, prima che qualcuno possa anche offendersi. Arriviamo direttamente al centrosinistra, che lo abbiamo visto, grande protagonista con le primarie della coalizione di centrosinistra e l'elezione a candidato a sindaco di Pietro Di Dei. Anche qui abbiamo un pezzettino dell'Udc che cerca di fare il suo ingresso, anche se vorremmo chiamarlo ex-Udc. Il segretario del partito, che si è dimesso perché non ha condiviso i motivi che hanno spinto la direzione generale a correre da solo, ha condiviso il programma del centrosinistra e ha cercato di allacciare dei rapporti con il candidato a sindaco. che ha detto di non aver problemi nell'accogliere l'ex segretario dell'Udc all'interno della coalizione, però qualcun altro il problema se l'è posto. Non era tanto d'accordo. Esatto, è vero, è vero, è vero. E questa è un'altra dimostrazione di come vanno le cose qui da noi, Gerasoni. Cioè, facciamo un piccolo passo indietro. Il centrosinistra è uscito dalle primarie, che hanno visto il successo di Pietro Tidei come candidato della coalizione, molto gratificato direi, perché gratificato da cosa? Dalla grossa partecipazione che c'è stata a queste primarie. Nessuno se lo aspettava, mi sembra, correggimi se sbaglio, più di 8 mila persone che sono andate a votare. E effettivamente questo dato di fatto lasciava ben sperare in una coalizione solida, forte, tetragona. Questo non è successo. Io recentemente in quella rubrica che faccio sulla provincia, l'ho definita un po' certa politica, la politica dei tafazzi. Il piacere di farsi del male da soli. Ebbè, purtroppo, e sottolineo il purtroppo, anche il centrosinistra e in particolare il PD si sono fatti male da soli, anche questa volta. Il cavallo di Troia, tra virgolette, è il buon Di Gennaro. Che non ha fatto nulla di male, poi tra l'altro. Assolutamente niente. Ha espresso una sua opinione, ha detto, ma io con quelli là non ci sto più, condivido il programma del centrosinistra e quindi se avete bisogno di un mio appoggio, io sono pienamente a disposizione. Cosa naturalissima, ritengo. Poi la cosa si è complicata, si è complicata perché sappiamo benissimo che è stato chiamato in causa il famoso codice etico, no ma qui le cose non si fanno così, qui non deve essere uno solo a decidere, qui dobbiamo riunirci, dobbiamo vedere questo, dobbiamo vedere quell'altro. E in tutto questo bailamme, che cosa è rifiorita nuovamente? È rifiorita nuovamente la posizione di Mauro Guerrini, il quale già prima di partecipare alle primarie aveva fatto capire che c'erano diverse cose su cui lui non era molto d'accordo, sia anche sulla condotta del Partito Democratico, eccetera. Dopo le primarie ha accettato, come del resto doveva fare, la vittoria di colui che poi doveva diventare il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra, ma il fatto di Gennaro ha scatenato nuovamente questi dissapori interni per cui oggi ci troviamo in un centrosinistra che sta perdendo i pezzi anche lui, perché se Mauro Guerrini e la sua componente, del resto mi sembra che Guido Grossi, Guido Gori, che era il rappresentante della sua componente all'interno del direttivo del PD, abbia già dato le dimissioni e se ne sia andato, dimissioni irrevocabili. Si aspetta da un momento all'altro quella che sarà la decisione di Guerrini, se Guerrini continuerà a far parte del PD e a sostenere la candidatura di Tidei, oppure se anche Guerrini deciderà di uscire dal PD e guarda caso, se dovesse anche lui decidere di candidarsi, arriveremmo a ben nove candidati con altre tante liste di sostegno. Io penso che questo sarebbe il non plus oltre. Veniamo invece all'ultimo candidato. Abbiamo parlato che si potrebbe arrivare a nove candidati, ma ancora non ne abbiamo trattato uno. Il candidato a sindaco che ancora non ha ufficializzato assolutamente nulla, tra l'altro ci potrebbe essere un colpo di scena e potrebbe non essere lui per la sua lista, per il Polo Civico. Veniamo al Polo Civico che ha già detto che entro la prossima settimana dovrebbe ufficializzare la candidatura, quindi presentare ufficialmente il suo candidato a sindaco, la sua lista e il suo programma. Che cosa è successo anche qui a Polo Civico? Che cosa è successo al Polo Civico? Il Polo Civico anche lui faceva parte dell'amministrazione Moscherini. Si è incrinato qualcosa anche qui, molto probabilmente il Polo Civico non ha ottenuto quello che pensava di ottenere, non ha ottenuto determinati riconoscimenti, qualche suo esponente, e mi sembra l'assessore Mauro Campidonico, l'assessore alle manutenzioni. È uscito abbastanza piccato da questa situazione, mi sembra. Lo stesso Alvaro Balloni lo ha appoggiato in questi suoi atteggiamenti e non si è lasciato certo, non si è risparmiato considerazioni certo non molto belle nei confronti dell'amministrazione di cui il suo gruppo faceva parte. E anche qui siamo in una situazione che rispecchia un po' anche quella degli altri, perché forse però il Polo Civico è stato forse, e correggimi se sbaglio, sempre, è stato un po' il primo a staccarsi da una situazione che andava sempre più peggiorando. Appena insediati già nel 2008 avevamo iniziato a prendere le distanze da quelle che erano le opinioni e i pensieri della coalizione. Esatto, e poi è stato sempre in seguito poi, sempre su posizioni abbastanza critiche, pur mantenendo la sua posizione in maggioranza. Quindi, morale della favola, qualche cosa all'interno di questa coalizione non ha funzionato, perché se avesse funzionato tutto per bene non saremmo arrivati a questo punto. Non saremmo arrivati a chiamarsi fuori all'inizio da parte di Città Nuova e non dimentichiamoci l'atteggiamento dell'allora quando il sindaco Moscherini aveva dichiarato apertamente di voler fare un rimpasto di giunta eliminando qualche assessore precedente e mettendo qualcun altro al suo posto. Già allora le crepe hanno cominciato ad allargarsi abbastanza e Città Nuova è stata recuperata all'ultimo momento, mi sembra, correggimi. Quindi, allora, cominciamo a fare un po' un esame introspettivo, io direi a tutti questi signori. Forse, ad eccezione di Ghirga e ad eccezione di Porrello, perché sono gli unici due che non facevano parte di nessuna delle due coalizioni. Ma gli altri dovrebbero farsi un po' un esame di coscienza, cominciando dal primo cittadino uscente a tutti gli altri. Anche lo stesso Pietro Tidei, lo stesso Partito Democratico, la stessa composizione, coalizione di centrosinistra, perché in una situazione di questo genere, questa è una mia opinione, un mio parere, potrei anche sbagliarmi, quando tu hai il tuo avversario politico, che è la coalizione dell'Argentese e il PDL, che sta facendo un po' d'acqua da qualche parte, tu cerchi di forzare la mano, di mettere in evidenza determinati punti negativi, di rafforzare te stesso per far fronte ad una situazione in cui tu all'indomani potresti uscirne vincitore. Non mi sembra che il PD abbia assunto pienamente a questo compito e la stessa coalizione di centrosinistra. È stata un po' ad eccezione di qualche suo esponente, dello stesso Tidei, molto sanguigno, lo conosciamo, però è stata sempre un po' un'opposizione quasi all'acqua di rose, è stata forse ultimamente diventata un po' più vibrante, un po' più dura. Però molte occasioni se le sono lasciate sfuggire. Io ricontinuo a dire quella questione del mercato. Bene, questo sicuramente farà pensare un po' i nostri politici. Speriamo che pensino in modo tale da trovare delle soluzioni non per loro stessi, ma per la città soprattutto. Io ti ringrazio tantissimo. Perfetto, adesso andiamo perfettamente d'accordo. Ti ringrazio per essere stato qui con me. È stato un piacere. Ringrazio anche i nostri telespettatori e ascoltatori e lascio la parola al telegiornale. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie.